terremoto in provincia di belluno la quarta intensa scossa della giornata ieri alle ore 20 e 21 con epicentro nel comune di sovramonte 2.9 la magnitudo la scossa è stata avvertita anche però nell'abitazione di filtri come il gazzettino ci va a rivelare tante le telefonate vigili del fuoco del distaccamento di feltre che hanno attivato la procedura d'urgenza facendo uscire i mezzi da piazzale non si segnalano per il momento danni entità umane oppure a cose dalle 18 di ieri 6 marzo 2020 sono registrate poi altri due scosse nella medesima zona del belmese la prima le 18 e 13 del poveriggio con 0.9 di magnitudo la seconda un'ora dopo il 0.5 vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi se vi va commentare saluto caro di andro il narratore italiano grazie a tutti